buongiorno cari amici nuovo video quest'oggi perché innanzitutto è giusto che con un po' di anticipo si pubblicizzano certe cose e poi bisogna anche dire che per vari motivi di sapere un po' di aggiornamento di qua di là dal computer che io qui a casa faccio annualmente dal mio negozio di fiducia tra brevi pochi giorni appunto cederò il mio personal computer al negozio appunto per l'aggiornamento ma a parte questo il vero motivo di qui come dice il dito il barcaffè corsaro presenta il carnival party party di carnevale più o meno siamo su un intrattenimento della falsariga dei mercatini natalizi appunto di dicembre 2021 ovviamente ingresso graduto quando domenica 27 febbraio da a che ora dalle ore 10 alle ore 13 barcaffè corsaro corso imbriani gli spazi inerenti all'ex ospedaletto pediatrico di trani mascotte spettacoli di giocoleria qui anche vedete dall'immagine videocopertina ben alza oaf albin simon chi più ne ha più ne metta mi raccomando non perdete questo grande appuntamento perché sarà davvero molto bello bello io poi mi farò di conseguenza la bella anche a un cambio di look che ci vuole insomma da un paio di mesi sto mantenendo la stessa capigliatura ma in previsione appunto di questa bella iniziativa c'è bisogno un po di una rispolveratina che dire non perdete questo appuntamento concludo ripetendo di nuovo quando domenica 27 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 barcaffè corsaro ex ospedaletto pediatrico di trani corsi imbriani venite in tanti mi raccomando che ci sarà da divertirsi ciao